dal cantico dei cantici così dice la sposa sul mio letto lungo la notte ho cercato l'amore dell'anima mia l'ho cercato ma non l'ho trovato mi alzerò e farò il giro della città per le strade e per le piazze voglio cercare l'amore dell'anima mia l'ho cercato ma non l'ho trovato mi hanno incontrato le guardie che fanno la ronda in città avete visto l'amore dell'anima mia da poco le avevo oltrepassate quando trovai l'amore dell'anima mia san a sete di te signore l'anima mia o dio tu sei il mio dio dall'aurora io ti cerco a sete di te l'anima mia desidera te la mia carne in terra arida assetata senza acqua a sete di te signore l'anima mia così nel santuario ti ho contemplato guardando la tua potenza e la tua gloria poiché se il tuo amore vale più della vita le mie labbra canteranno la tua lode a sete di te signore l'anima mia così ti benedirò per tutta la vita nel tuo nome alzerò le mie mani come saziato dai cibi migliori con labbra gioiose ti loderà la mia bocca a sete di te signore l'anima mia quando penso a te che sei stato il mio aiuto esulto di gioia all'ombra delle tue ali a te si stringe l'anima mia la tua destra mi sostiene a sete di te signore l'anima mia dal vangelo secondo giovanni il primo giorno della settimana maria di mardala si ricò al sepolcro di mattina quando era ancora buio e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro corse allora andò da simon pietro e dall'altro discepolo quello che gesù amava e disse loro hanno portato via il signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto maria stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi dove era stato posto il corpo di gesù ed essi le dissero donna perché piangi rispose loro hanno portato via il mio signore e non so dove l'hanno posto detto questo si voltò indietro e vide gesù in piedi ma non sapeva che fosse gesù le disse gesù donna perché piangi chi cerchi ella pensando che fosse il custode del giardino gli disse signore se l'hai portato via tu dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo gesù le disse maria ella si voltò e gli disse in ebraico rabbuni che significa maestro gesù le disse non mi trattenere perché non sono ancora salito al padre ma vada ai miei fratelli e di loro salgo al padre mio e padre vostro dio mio e dio vostro maria di martala andò ad annunciare discepoli ho visto il signore e ciò che le aveva ha detto no 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 Grazie a tutti.